Calano i volumi produttivi del settore metalmeccanico nel primo semestre 2019, allarme di conti industria Udine che chiede misure concrete al governo. La CISL 2000 ai lavoratori coinvolti in percorsi di crisi. Polemiche dopo che il ministro dell'istruzione Fieramonti ha proposto di sostituire in classe il crocefisso con una cartina geografica da Pordenone e il filosofo Catapano parole fuori luogo e fuori tempo. Rilevazioni più che positive per il ghiacciaio del Montasio che è quello che meglio resiste al cambiamento climatico di tutto l'arco alpino. Monitoraggi continui di regione e le gambiette. Nuovo percorso per la staffetta Teleton di Udine, partenza e arrivo in piazza Primo Maggio e per la prima volta si passerà in piazza San Giacomo, iscrizione al via l'11 ottobre. Sarà una partita particolare quella di domenica per Depò, la Firenze e Luca Mattei si aspetta qualche fischio per l'argentino, al doppio ex di Fiorentina Udinese promuove comunque i bianconeri più forti degli ultimi anni. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo con la pagina economica. Il settore metalmeccanico del Friuli Venezia Giulia è in sofferenza, rallenta e anche se l'export cresce. Confindustria Udine lancia un messaggio forte e chiaro al governo, al quale chiede attenzione per l'economia reale, misure concrete e quindi il nodo delle infrastrutture, il cuneo fiscale per i lavoratori, anche un grande piano di inclusione dei giovani nel mondo del lavoro. E di oggi sono anche alcuni dati della CISL che descrivono la crisi del settore e servizi. Cresce l'export ma la metalmeccanica regionale rallenta. Gli industriali friulani sono preoccupati per la frenata dell'economia tedesca. Al governo, afferma la Presidente di Confindustria di Udine, Anna Marischi Danieli, chiediamo attenzione all'economia reale. Dopo aver chiuso il 2018 con una crescita complessiva dello 0,3% rispetto al 2017, l'industria metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia, sulla base delle elaborazioni dell'ufficio studi di Confindustria Udine, diffusi in occasione delle giornate della metalmeccanica di Federmeccanica, ha registrato nel primo semestre del 2019 una contrazione dei volumi produttivi del meno 2,1% rispetto allo stesso periodo del 2018. Anche l'industria metalmeccanica della provincia di Udine, che conta quasi 25.000 addetti, ha registrato già dallo scorso anno andamenti congiunturali trimestrali in decelerazione. Dal monitoraggio effettuato dalla CISL regionale all'interno di aziende in cui è presente la FIM, a luglio scorso in Friuli Venezia Giulia risultavano quasi 2.000 i lavoratori coinvolti da percorsi di crisi e 17 aziende alle prese con l'attivazione di strumenti come la cassa integrazione o i licenziamenti o l'utilizzo di ferie forzate e la solidarietà. La situazione è stata riferita a Udine in occasione dell'incontro con il segretario nazionale della FIM, CISL Ferdinando Ulliano, che ha illustrato i metalmeccanici, l'ipotesi di rinnovo contrattuale il cui negoziato dovrebbe partire a giorni. Confindustria di Udine, dal canto suo, rimarca che le richieste per la manovra d'autunno sono quelle già espresse prima dell'estate, a cominciare dal nodo delle infrastrutture e dal cuneo fiscale per i lavoratori e a un grande piano di inclusione giovani nel mondo del lavoro. Dopo il disimpegno del Fondo 4R, la vertenza Kipre approda in Consiglio regionale. In attesa di un incontro con il sindacato, fissato per la prossima settimana, l'assessore Bini rassicura sul pagamento degli stipendi e sulla continuità produttiva. Apprensione per il futuro dei 500 posti di lavoro negli stabilimenti del gruppo Kipre, di cui fanno parte anche il prosciutificio Principe di San Daniele e Kings, dopo la notizia del disimpegno da parte del Fondo 4R, che pareva volesse ristrutturare il debito con un investimento di 30 milioni di euro e che invece si è defilato. La famiglia Duccevic sta già lavorando per delle alternative e ci sono già altri soggetti interessati al subentro. Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle attività produttive Bini, rispondendo in Consiglio regionale a Francesco Russo del PD, che chiedeva un aggiornamento sulla situazione che preoccupa molto. Un'altra rassicurazione, aggiunto Bini, ci è stata data anche per la liquidità di cassa, che permetterebbe quindi il pagamento degli stipendi il prossimo 10 ottobre e la produzione sta andando avanti. Intanto è stata avanzata una richiesta di incontro urgente dalla Fai Cisle, FWG e Willa Willa, gli assessori Rosolen e Bini. Ci siamo attivati, dice Giorgio Spellat di Fai Cisle, anche con la Segreteria Nazionale per definire un tavolo di crisi. In questi nove mesi abbiamo seguito la crisi del gruppo Kipre, mantenendo un continuo contatto con i laboratori e partecipando a tutti i tavoli con l'azienda, con l'obiettivo di tutelare l'occupazione tramite anche l'utilizzo di ammortizzatori sociali, sia per lo stabilimento Principe di San Dorligo della Valle, sia per quello di San Daniele, tuttora in vigore. Come fa il Cisle, continueremo a cercare soluzioni per il mantenimento dei siti produttivi a tutela delle lavoratrici, dei laboratori e dell'indotto. Dopo la fattura elettronica, lo scontrino digitale. La novità sarà introdotta nel 2020. L'ASCOM è già pronta a fare formazione ai commercianti che dovranno appunto fare i conti con l'ennesima novità. Vediamo. Dal 1 gennaio 2020 i commercianti diranno addio al vecchio scontrino fiscale per sostituirlo con uno elettronico. Per le imprese cambieranno gli adempimenti amministrativi e sarà necessario modificare i registratori di cassa che saranno automatici con connessione internet. L'introduzione dello scontrino digitale per i negozi prevede la memorizzazione e trasmissione telematica di scontrini e fatture ogni giorno all'Agenzia delle Entrate. Sullo scontrino digitale, spiega il presidente provinciale di ConfCommercio, Alberto Marchiori, la nostra associazione si è adoperata da subito per cercare di agevolare le imprese sulla transazione e consentire alle stesse di far fronte a questa importante innovazione. Per questo, conclude Marchiori, abbiamo messo a disposizione un'apposita sezione sul sito internet dell'ASCOM con una sorta di vademecum. Dall'obbligo dell'invio telematico, precisano dalla struttura associativa, sono esclusi i tabaccai e coloro che vendono beni dai monopoli di Stato, i benzinai per i clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio d'impresa, i giornalai e quelli del settore scompesse New Slot. Un cambiamento normativo che sarà illustrato agli operatori del terziario dell'ASCOM di Pordenone attraverso una serie di incontri formativi in programma sull'intero territorio provinciale. I prossimi appuntamenti riguardano i mandamenti di San Vito al Tagliamento, mercoledì 2 ottobre alle 20 in Sala Consiliare, Spilimbergo, mercoledì 9 ottobre alle 20 in Corte Europa, Sacile, lunedì 14 ottobre alle 20 nella sede dell'ASCOM. I relatori sono Marco Zadro, responsabile ASCOM per la parte fiscale e Tecno 3 per quella tecnica. Nel corso degli incontri saranno illustrati anche i nuovi bandi regionali riservati ai settori commercio e turismo con il responsabile di terziaria CAT, Luca Penna. Crisi di maggioranza rientrata in Friuli Venezia Giulia, lo dice lo stesso Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che in questa intervista parla anche del diritto di voto da estendere anche ai sedicenni. Sentiamo. Abbiamo fatto più vertici in questi mesi per fare il quadro della situazione e programmare soprattutto il futuro, e questa è l'operazione principale, quindi dalla riforma sanitaria alla conclusione della seconda parte, alla riforma delle autonomie locali, allo sviluppo imprese e dopo ovviamente anche vedere se ci sono state le electricità, come risolverle, quindi penso una maggioranza forte che ha dimostrato in aula di votare sempre in modo compatto e l'impegno preso ieri sera è stato proprio quello di proseguire nello stesso modo in cui abbiamo lavorato in questo anno e mezzo. Oggi abbiamo riforma delle autonomie locali, come dicevo, e sanità. Poi c'è sviluppo imprese, quello che mi piacerebbe è riuscire a proseguire l'intervento dell'abbassamento della pressione fiscale. Abbiamo iniziato con la prima legge di bilancio, penso che siamo una delle poche regioni in Italia che abbassa veramente la pressione fiscale, tanti parlano, abbassiamo le tasse. Il primo Venezia Giulia, già con la legge 2019, è iniziato a farlo, vogliamo proseguire per rendere sempre più sostanziose le nostre misure. Si torna a parlare di diritto di voto ai sedicenni? Io sono stato il firmatario nel 2015 della proposta di legge proprio per dare voto ai sedicenni. Io penso che è un momento in cui bisogna aprire la politica, aprire le istituzioni rendendo protagonisti anche i ragazzi. oggi a 16 anni penso che ci sia la maturità e la responsabilità di poter fare una scelta di carattere politico e quindi benvenga andare in quella direzione. Siamo contenti che altre forze politiche con qualche anno di ritardo, quattro almeno rispetto alla mia proposta di legge, si siano svegliate. E del voto ai sedicenni ha parlato anche il presidente della Camera, Roberto Fico, oggi a Trieste, ha partecipato ad un incontro all'università, ha tenuto una lezio magistralis per l'inaugurazione dell'anno scolastico del liceo Petrarca di Trieste, istituto in cui ha studiato Giulio Reggeni. E proprio la presenza dei genitori del ricercatore friulano ucciso al Cairo ha parlato anche appunto del caso Reggeni in servizio. Il nostro Stato deve pretendere verità a qualsiasi costo, lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, prima di prendere parte ad un incontro all'università di Trieste, durante il quale si è parlato anche del caso di Giulio Reggeni, morto in Egitto nel 2016. Lo Stato, il governo, il Parlamento deve essere unito nella ricerca della verità. Non si può pensare che questa cosa vada a finire in un cassetto degli archivi egiziani, ma il nostro Stato deve pretendere verità a qualsiasi costo. Sul caso del ricercatore friulano, Fico ha aggiunto l'Italia deve fare e può fare ancora tantissimo il ritiro dell'ambasciatore. Può essere una strada che sarà poi affidata alle valutazioni del governo e del ministro degli esteri, ma lo Stato, il governo e il Parlamento devono essere uniti nella ricerca della verità. Fico, che ha tenuto un alezio magistralis in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico del liceo classico Petrarca, dove studiò Giulio Reggeni, ha parlato anche della proposta di legge costituzionale per allargare l'elettorato attivo ai sedicenni, presentata dalla Lega nel 2015, di cui fu primo firmatario l'attuale presidente della regione, Massimiliano Fedriga. Votare a 16 anni, secondo me, è molto importante dare già una responsabilità ai ragazzi che possono insieme interessarsi ancora più da vicino della cosa pubblica, con il diritto del voto, un diritto fondamentale, è un bel passo in avanti del Paese. In questo momento il nostro dovere è solo ascoltare e riuscire a dare risposte che siano concrete. Mi immagino quanti sedicenni nel nostro Paese che magari tra poco potranno andare al voto sono Greta e parlano delle stesse cose, trattano gli stessi temi e noi dobbiamo riuscire a realizzarli assolutamente perché ne va del destino del mondo. Sono positivamente stordita, così la mamma di Giulio Reggeni, Paola, al termine della lezione magistralis di Fico. Con lei c'erano anche il marito e papà di Giulio Claudio e il legale della famiglia, Alessandra Ballerini. E se è discussa oggi in Consiglio regionale la mozione presentata da Furio Onser sull'ottenimento del certificato di nascita per figli nati in Italia da persone non comunitarie ed irregolari. La mozione presentata dal consigliere di Open Sinistra chiedeva di accertarsi dell'effettiva esistenza giuridica di ogni soggetto nato nel territorio e le opportune modifiche alla legge 94 del 2009. Il presidente della regione Fedriga ha condiviso le motivazioni del consigliere Onser specificando però che non è mai stato segnalato un caso di bambino non opportunamente registrato. è stata così stralciata la possibilità di modificare la legge mentre è stato approvato all'unanimità l'impegno della regione nell'accertarsi dell'effettiva registrazione dei nati in Italia da genitori irregolari. Restiamo in aula perché è stata celebrata in Consiglio regionale la seconda giornata dei corregionali all'estero alla presenza delle sette associazioni che si occupano di mantenere i contatti tra gli emigrati e la loro terra d'origine. Operosità, intelligenza e sacrificio Con queste tre parole il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanini ha voluto rendere omaggio a Ente Friuli nel Mondo, Associazione Giuliani nel Mondo e Fasce, Eraple, Alef, Clape Furlane e Unione Immigrati Sloveni e attraverso loro a tutti gli emigranti partiti dal Friuli Venezia Giulia per cercare fortuna altrove le cui famiglie sono ancora legate alla loro terra d'origine. Oggi si festeggia la seconda giornata dei corregionali all'estero è motivo di grande orgoglio oggi aver in collaborazione con le associazioni dei corregionali all'estero del Friuli Venezia Giulia premiato 12 eccellenze del nostro Friuli li abbiamo definiti testimoni di un tempo che fu legato alla tradizione ma con occhio aperto verso il progresso e il futuro e si è parlato anche di come noi possiamo come regione Friuli Venezia Giulia star vicino ai tanti ragazzi che laureati trovano poi sbocco in università in grandi multinazionali nei paesi fuori dall'Italia. La massima gratitudine alla regione per aver voluto questa giornata per aver messo al centro dell'attenzione e quindi messo in evidenza il fattore dell'immigrazione quindi gli emigranti e aver dato loro un riconoscimento a testimonianza di quello che loro sono di quello che sono stati di quello che hanno fatto in passato e che stanno tutt'oggi facendo se pensiamo al Venezuela ad esempio dove oggi è difficile anche vivere e tante volte sopravvivere ecco ci sono persone che ancora si ricordano e tengono contatti con il nostro territorio con la nostra regione con i nostri Friuli La cronaca infortunio sul lavoro alla Italblock a Manzinello di Manzano il titolare un uomo di 84 anni è caduto mentre stava lavorando con un carrello battendo la testa ad assistere è stato un operaio che ha chiamato l'ambulanza l'anziano è stato portato all'ospedale di Palmanova non sono gravi le sue condizioni scontro frontale a Reana è rimasto ferito un pensionato l'incidente è accaduto questa mattina poco dopo le 9.30 in via della stazione ferroviaria vicino alla frazione di Rizzolo per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri si sono scontrate una Peugeot 5008 una Suzuki Vitara è rimasto ferito il conducente dell'auto giapponese un uomo di 70 anni residente in paese soccorso dal personale medico di un'ambulanza è poi portato al pronto soccorso dell'ospedale di Udine illeso il conducente della Peugeot furto nella notte al Teton Store di Cervignano dove i malviventi hanno forzato la porta posteriore dopo aver manomesso il sistema d'allarme i ladri sono riusciti a rubare contanti per 5.000 euro e alcuni oggetti che si trovavano negli uffici sul posto sono intervenuti i carabinieri della radio mobile di Palmanova e i militari dell'arma di Pavia di Udine polemiche anche nella nostra regione sul crocifisso meglio una cartina del mondo con i richiami alla Costituzione ha detto il ministro dell'istruzione Fioramonti riferendosi appunto alla presenza del simbolo religioso nelle aule da Pordenone arriva la risposta del filosofo e professore universitario Giovanni Catapano che dice sono parole fuori luogo e fuori dal tempo è appeso nelle aule scolastiche dalla fine degli anni 20 quando lo Stato stabilì che sui muri dovessero esserci la foto del re e il crocifisso poi l'immagine del regnante è stata sostituita da quella del Presidente della Repubblica ma il crocifisso è sempre lo stesso in passato ci sono stati diversi tentativi di eliminarlo dalle classi tutti naufragati davanti ai giudici l'ultimo capitolo riguarda il ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti che durante la trasmissione Un giorno da Pecora ha affermato che al suo posto vedrebbe bene una cartina del mondo al ministro laureato in filosofia risponde un filosofo il pordenonese Giovanni Catapano che questa sera presenta nell'ambito di ascoltare leggere e crescere il suo ultimo libro sul santo filosofo Agostino la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche in genere nei luoghi pubblici è una questione su cui già si è molto dibattuto e ci sono stati dei pronunciamenti credo illuminanti da parte del Consiglio di Stato e anche della Corte Europea dei diritti umani rispolverare questa questione sembra un po' fuori tempo e fuori luogo francamente la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche non è per nulla incompatibile con la laicità della scuola italiana docente di storia della filosofia medioevale all'Università di Padova Catapano studia proprio quelle radici storiche cristiane simboleggiate dal crocifisso penso che sia proprio questa la prospettiva da cui dobbiamo vedere il crocifisso in aula cioè come un simbolo un simbolo che non ha un valore cultuale come può avere lo stesso simbolo quando è posto in una chiesa ma che non è nemmeno un suppellettile è qualcosa che simboleggia un insieme di valori e di principi in cui la comunità nazionale italiana si riconosce ci occupiamo ora di un'altra polemica che continua a tenere banco in regione infatti ancora a bufera sul consigliere comunale di Turriaco Marco Tricarico che ha condiviso sul proprio profilo Facebook una vignetta pesante contro la giovane attivista Greta non si placca la bufera scatenatasi attorno alla figura del consigliere della Lega di Turriaco Marco Tricarico reo di aver condiviso sul suo profilo Facebook una vignetta dei toni fin troppo pesanti contro la giovane attivista Greta Thunberg a schierarsi contro il consigliere sia il PD che il Movimento 5 Stelle regionale mentre dal locale arriva una decisa presa di posizione di ben 22 tra consiglieri comunali della destra e della sinistra Isonzo che hanno firmato un documento in cui chiedono le dimissioni del consigliere comunale leghista come amministrazione comunale ma credo come comunità tutta ci riteniamo parte lesa purtroppo l'uscita è davvero infelice incresciosa inqualificabile da un punto di vista del degrado culturale al quale siamo giunti e spiace parecchio che il paese di Turriaco venga associato a questa triste vicenda che potevamo francamente evitarci un paese che avrebbe da offrire che ne so le ciclabili dedicate ai cantautori realizzate da poco il parco comunale dell'Isonzo il fatto che accolga dei richiedenti asilo con orgoglio il fatto che possa rivendicare un tessuto associativo forte che propone la festa in piazza del baccalà tutte queste cose qua purtroppo nonostante tutti questi anni di lavoro magari vengono sporcate da un episodio davvero increscioso 22 consiglieri comunali della destra e sinistra Isonzo si sono schierati dalla vostra parte si probabilmente se ne aggiungeranno anche degli altri questo sta a significare che effettivamente c'è stata una sommossa popolare da questo punto di vista perché il disgusto verso le dichiarazioni e il modo di esprimersi di tricarico è stato davvero tanto e quindi la replica è stata questa e la richiesta è quella delle dimissioni da parte del consigliere non vediamo altre vie d'uscita frangamente Nastri rosa e azzurri adobbano da questa mattina all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine la decorazione ha incuriosito i degenti ma anche semplici passanti tanto che sono arrivate anche delle telefonate al centralino dell'ospedale per capire di che cosa si trattasse in particolare chi fosse nato quale speciale neonato ci fosse per ricevere una simile accoglienza in realtà non si tratta di alcun parto particolare o eccezionale ma della nuova campagna rosa lanciata dall'associazione Andos Associazione Donne Operate al Seno la ONLUS quest'anno come ci ha spiegato la Presidente Mariangela Fantin per la campagna rosa di settembre ha attivato in collaborazione con l'associazione Unci di Udine un'operazione per sensibilizzare oltre alle donne anche gli uomini sulla prevenzione della prostata da qui appunto nastri e fiocchi rosa e azzurri ed ora andiamo a Barbana sentiamo quali novità saranno i benedettini del priorato conventuale di Santo Stefano di Bologna della Congrega Ciao Benedettina do Brasil un priorato che negli anni ha visto l'allargarsi della propria comunità diversi monaci di origine italiana ad assumere la cura pastorale del santuario di Barbana sull'isola omonima nella laguna di Grado ad amministrare nel primo periodo il santuario sarà il vicario generale Monsignor Armando Zorzin mentre i fratti minori francescani riapriranno il proprio convento a Monfalcone presso il santuario della Marcelliana verranno già due monaci penso tra qualche giorno verso metà ottobre metà di questo mese sarà ancora presente però alcuni monaci alcuni fratti francescani saranno presenti fino verso Natale verrà continuata le celebrazioni come devozionali i cammini che già ci sono adesso i pellegrinaggi certamente il fatto che sono monaci offriranno anche la possibilità di una accoglienza una loro foresteria ci sarà poi la liturgia delle ore come loro fanno quindi lodi vesperi e anche le ore durante il giorno qui potranno partecipare anche i fedeli e anche gli ospiti siamo monaci beneditini dell'ordine di San Benedetto della congregazione beneditina del Brasile attraverso la preghiera l'accoglienza è la cosa principale anche perché la nostra regola è riassunta in due parole prega e lavora e questo sarà anche il nostro lavoro attraverso la preghiera soprattutto la confessione della Santa Messa e anche attraverso l'accoglienza ai peregrini possiamo dire che daremo continuità al lavoro dei fratti ed ora il ghiacciaio del Montasio che pare reggere bene ai cambiamenti climatici il ghiacciaio del Montasio è osservato speciale anche se al momento gode di buona salute rispetto agli altri ghiacciai dell'arco alpino che sono agonizzanti lega ambiente continuerà a tenerlo sotto controllo tanto più che le sue condizioni sono costantemente monitorate dagli uffici competenti della regione attualmente in buona parte ricoperto da detriti sotto i quali ci sono ancora 5 metri di ghiaccio è alimentato dalle slavine che cadono durante l'inverno e se ci sono stagioni caratterizzate da molta neve riesce a mantenere la materia prima per consolidarsi nel periodo caldo è protetto dall'alta parete montuosa che lo tiene sempre a riparo dal sole queste immagini sono state realizzate dall'associazione Treehouse di Tarvisio e ci sono state fornite da Marco Lepre di Lega Ambiente dell'Alto Friuli che ha organizzato due escursioni con gli studenti del Solare di Tonnezzo per valutare di persona le condizioni del ghiacciaio al quale si accede sia dalla Valsaisera con una passeggiata di poco più di due ore in sicurezza che dalla Valdogna abbandonando l'auto a dieci minuti dal rifugio grego che si trova a fianco del ghiacciaio quello del Montasio conclude Lepre ci dice io resisto ma non so fino a quando la sua morte vorrebbe dire perdere una biodiversità un paesaggio unico ma soprattutto sarebbe un segnale d'allarme per tutto il pianeta Leonardo Secchi è il nuovo direttore del Dipartimento di Area Medica dell'Università di Udine ordinario di medicina interna succede a Silvio Brusaferro passato alla presidenza dell'Istituto Superiore di Sanità lo ha comunicato oggi l'Ateneo Friulano ed ora ci occupiamo di Teleton con il nuovo percorso della staffetta andiamo a scoprirlo la ventunesima staffetta Teleton 24 per un'ora in programma dalle 15 di sabato 30 novembre fino alla stessa ora di domenica primo dicembre scalda i motori con tantissime novità a iniziare dal percorso complice il cantiere in via Mercato Vecchio infatti il comitato udinese staffetta e Teleton presieduto da Marco Decker ha disegnato un tracciato nuovissimo sempre nel quale la città che permetterà di scoprire anche nuovi scorci udinesi i 1700 metri del circuito messo a punto e testato da Stefano Scaini avranno come punto nevralgico piazza primo maggio che accoglierà il villaggio Teleton ma anche la linea di partenza e di arrivo da Giardin Grande si arriverà in via Manin in piazza Libertà e poi via Cabur via Canciani e un'altra new entry il passaggio per piazza San Giacomo coinvolta per la prima volta e ancora via Sarvi piazzetta Marconi riva Baratolini via Porta Nuova e di nuovo piazza primo maggio per percorrere l'intera elisse come tradizione le iscrizioni si possono effettuare unicamente attraverso il sito internet teletonudine.it da venerdì 11 ottobre il numero massimo di team è fissato a quota 600 per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti tra tante novità quello che non cambia è l'obiettivo della manifestazione la raccolta fondi a favore della ricerca scientifica per le malattie genetiche rare coordinata dalla fondazione Teleton accanto alla 24 per un'ora non mancherà la staffetta giovani che anche per quest'anno manterrà il ruolo di apripista della due giorni all'insegna della corsa i ragazzi delle scuole regionali scatteranno nella mattinata di sabato 30 novembre e avranno tutti riflettori su di loro con start e premiazioni dedicate ed ora la pagina sportiva con l'udinese Luca Mattei doppio ex dei bianconeri della Fiorentina è convinto che questa Udinese sia la migliore degli ultimi anni Luca Mattei doppio ex di Fiorentina e Udinese intanto ti chiedo come vedi l'udinese di quest'anno ma secondo me ha lasciato per strada qualche punto per l'organico che ha l'udinese potrebbe avere qualche punto più classifica secondo me la Fiorentina invece era partita male poi era partita male e ora sta dimostrando di avere una rosa molto competitiva secondo me molto più forte dell'anno scorso quindi secondo te quali potrebbero essere gli obiettivi delle due squadre tu parlavi di organico dell'udinese che è superiore a quello che dice la classifica quindi anche superiore a quello degli scorsi anni secondo me sì secondo me sì perché poi è stata molto importante ora a parte la squalifica di tre domeniche ma ha un giocazione che per l'appunto lo voleva anche la Fiorentina a tutti i costi nel mercato estivo secondo me con la punta che abbia ripreso è molto più competitiva dell'anno scorso senti De Paul secondo te vivrà una domenica particolare lì a Firenze sì secondo me non sarà una partita facile a livello mentale perché conoscendo la tifoseria Viola appena toccherà il pallone lo fischeranno in 40.000 ti chiedo un pronostico secco ma io se esce fuori un bel pareggio sono felicissimo per tutte e due un punticino per l'udinese che va più che bene la Fiorentina che ha vinto fuori casa domenica contro il Mila sicché sarei felice il mio cuore brilla ancora per l'udinese e anche per la Fiorentina è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti